Cooperativa agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Trebaseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Benvenuti al meteo. Pressione atmosferica in calo l'ultimo fine settimana di agosto. Da un aumento dell'instabilità sul nostro territorio. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di sabato 27 ci mostra una situazione decisamente variabile. Al mattino cielo poco nuvoloso, dal pomeriggio alternanza di nuvole e rasserenamenti, attesi rovesci e temporali dapprima sui monti e a seguire anche sulla pianura, locali fenomeni anche sulle zone costiere. Temperature in lieve calo, minime tra 16 e 24 gradi, massime invece comprese tra i 28 e i 31 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. In giornata saranno possibili rovesci a carattere sparso, più probabili a partire dal pomeriggio. Soffierà bora moderata sulla costa, specie a Trieste. Temperature minime sui 20-23 gradi, massime intorno ai 30-31 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Poche novità, precipitazioni sin dal mattino, in questo caso alternate a schiarite, migliorerà poi in serata. Temperature minime intorno ai 17 gradi, massime sui 30-31 gradi. Dal Meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Grazie per l'attenzione. Arrivederci.